Buongiorno a tutti, il venerdì della seconda settimana di Pasqua, una giornata che ci attende, nuova, donata alle mani del Signore, che vi venga benedizione per ciascuno. Vogliamo ascoltare ciò che la liturgia ci offre quest'oggi. Siamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, i versetti dall'1 al 15. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla, veniva da lui e disse a Filippo Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo, duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro. C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù, fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva, questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. E' un brano particolare questo, strano, che lo leggiamo durante un tempo di Pasqua, ci aspetteremo il risorto. E invece la liturgia ci presenta Gesù che è dentro al tempo della sua vita pubblica e sta facendo questo segno. Ha attraversato il mare e forse questo ci dice il perché anche. E' stato scelto questo brano, ci porta all'altra riva, c'è un passaggio. Il passaggio della Pasqua, il mare della morte. Ci sono dei simboli dentro questo brano che ci indicano già una lettura anche con Gesù risorto. Tanto che Gesù stesso sceglie il gesto del pane come segno e presenza che continua la sua di presenza. Che diventa l'espressione, lo spazio dove i discepoli lo possono riconoscere. E allora ecco che anche noi entriamo dentro a questo brano, in questa chiave di lettura. Dove davvero l'esperienza della Chiesa che si raduna per spezzare il pane, gli fa tornare all'esperienza di Gesù. Dentro alla sua vita ordinaria, il suo insegnamento, e questa è la prima forma di memoria che ci viene consegnata attraverso questo pane, per cui il suo insegnamento è contenuto dentro a questo pane, ma anche alla sua presenza. Gesù sceglie di legare a questo pane la sua comunità. Filippo viene coinvolto in questa moltiplicazione, così la chiamiamo, ma dice 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Ci porta di fronte all'esperienza della resurrezione questo. Che cosa possiamo fare noi di fronte alla morte e alla vita? Poco. Nulla. Che cosa può essere il nostro contributo in questo? Non è sufficiente. Eppure Gesù fa sì che la piccola offerta che può essere messa dentro alle sue mani, un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, questo diventa qualcosa di preziosissimo, di grande, di ricco. Perché? Perché il Signore risorto dà il necessario a ciascuno. È Lui che diventa il pane di vita, che si serve del suo corpo, che è la Chiesa, della nostra offerta, della nostra azione, per poter raggiungere, per poter toccare, per poter moltiplicare. E allora vogliamo leggerla anche noi in questa chiave da risorti. Noi che ci nutriamo di quel pane di vita, o che ce ne nutriremo di nuovo quando sarà il momento possibile, ma che abbiamo già dentro di noi il pane di vita che è Cristo, possiamo diventare spazio dove questa moltiplicazione si manifesta di nuovo, si compie ancora. Perché? Perché la vita che abbiamo ricevuto non si esaurisce, ma se donata si moltiplica. Buona giornata a tutti.